Salve a tutti signori e signori e benvenuti su Mad Max Allora, come probabilmente alcuni di voi sanno, ieri, o comunque poco tempo fa, non so quando uscirà questo video, è stato il mio compleanno Ho chiesto dei giochi ai miei parenti, mi è arrivato questo ed altri Oggi faccio un video su Mad Max perché è un gioco che mi ha sempre incuriosito Da quando è uscito ho sempre pensato che fosse un gioco che vale la pena giocare Anche perché io sono feticista di post-apocalisse Soprattutto se si parla di post-apocalisse nucleare tipo Fallout io mi sento male Tra l'altro aspettatevi un gameplay su Fallout prima o poi Prima di iniziare voglio ringraziare i miei genitori che hanno reso possibile questo gameplay Perché appunto me l'hanno regalato loro perché io non ho i soldi nella mia vita E direi subito nuova partita, io non l'ho proprio mai toccato questo gioco È la prima volta che lo metto dentro la play, è la prima volta che lo lancio Nuova partita Macchine Ok Johnny è morto Ma si chiama veramente Scrotus il capo di Ma è Salvini Sta con una ruspa gigante, è Salvini Matteo Salvini Aia, aia, aia Mi sa che è un immigrato clandestino Ma lo lasciano nudo No, Matteo Salvini mi ha rubato la macchina Ma ciao Eh Ma zanna la lagola No No, no Oh madonna Dead Rising Io voglio questa cosa di Matteo Salvini Come fa Ho ucciso Matteo No Matte Non mi dica è ancora vivo Porca droia, è ancora vivo Gli ha segato in due il cranio Ok, abbiamo rubato dei vestiti Cos'è? È un fucile? Minchia, sembra tutto tranne che un fucile E si comincia Ho bisogno di acqua Cazzo la trovo l'acqua in questo deserto, incredibile Dicevo Perché gioco sempre Giochi con ambientazioni Cioè Britanniche Perché I need water Poi tipo Il personaggio narrante era tutto Hey, what was like Something was happened to him Usa le fonti d'acqua per riempire la borraccia Questa è una fonte d'acqua? Devi la borraccia per riempire la salute di Max Ah, devo tenere premuto Ok Che mi è portato sin qui? Devo trovarlo Chambucket Meagle Ma dove porta il cane? Il cane sta sanguinando Posso sistemarlo? Ma no Il gioiello nero Dove trovo le cavi? Ma che cazzo Vabbè Where's my call? Trovo le cavi per la carazza di Chan Ah, in quel posto posso mangiare il cibo Va bene Ma è cibo per cani! Scatto con R2 Che pulsante strano per scattare Saccheggia i cadaveri Raccogli il bottino Vediamo Ah Cartuccio per fucine Posso sparare? Cos'è gesto è più evidente che un'altra semina per scalare? Ma che cazzo dice? Usa il fucile Ah, non lo so Minchia, si mira con L1 Ah, con cerchio si spara Ma siamo seri? Che cazzo di mira è? Cioè, si mira con L1 E si spara con cerchio Ma siamo fuori Il quadro per colpire un nemico E il triangolo per parare un attacco Ok Let's brawl! Mamma mia che figata Uh Vabbè Il combattimento è È quello di Della serie di Arkham Mamma mia Uh Madonna santa Cos'è questo? Raccoglio i chiavi Ah Chiavi E devo ritrovare Devo ritornare da Chamly Mi piace come abbia stamina infinita Scherzavo Pfff Oh, allora Io Oh capisco male l'accento E siamo Tipo in Australia Perché White Mi sembra strano Mi sembro più australiano Probabilmente siamo in Australia Presto santo Che li perde olio Che cazzo Come cazzo parli? Povero cucciolo Tutto spaccato Mandiamo un leon Chi mi conosce sa chi è leon Buono cane Buono Ma che bello Ma che bello Dentro le cucciolo Dai cazzo E vai santo La carrozza È umile ma spinge parecchio Oh shit Pensione del campamento Quassù Senza rischio di essere scoperti Se diciamo Fino al punto di vedetta Ma il cane È mezzo morto Ma non possiamo salvare il cane Prima Nooo Ma hanno smontato la macchina Missione storia completata La mia vada è andata Ridotta in rontami Dalle bestie di guerra di Scrotus Di Salvini Mi serve un nuovo mezzo Mi serve subito Questo bizzarro meccanico Fuori di testa Potrà aiutarmi Minchia è un'officina Chambaghetcovo Perché chiamarlo Chambaghetcovo In inglese era troppo Covo di chamb Quando sei pronto Santo Il mio sacro nascondiglio Attende Devi stare calmo Stavo riempendo l'acqua Vai inizia missione Damagno Mopus Bella merda Cioè Era una cazzo di lotus Ma come Mamma mia Ma come si fa Ma guarda che cazzo Ma guarda Ma è un triciclo Carburante esaurito Minchia E' a secco Si Ci si mena Cretino Io già non mi ricordo più Come si beve Devi stare calmo Oh Shoryugen Come si beveva Con il cerchio No Prendo tutti I garburanti Cioè no I rottami Per sicurezza Adesso andiamo A fare benza Che devo fare? Fai rifornimento Ah Devo conservare Ma questa Allora Io l'avevo fatta esplodere Sono abbastanza sicuro Prima Vabbè Certo Mi stai a far guidare Sto scassone Senza manca la benzina Oddio Eh Hiamo fatto il bot Ok Come la faccio esplodere Che non c'ho le munizioni Boo E niente Non c'ho munizioni Come faccio? Vabbè Lasciremo con questo cliffhanger Quindi signori e signori Se il video vi è piaciuto Mettendo mi piace Condividete su facebook Fate tutto quello che vi pare Penso di Cominciarci una serie Perché V'ho detto Che mi piace sto gioco E volevo giocare con voi E Signori e signori Io sono Alex Wex Ci vediamo alla prossima